In attesa di aprirsi definitivamente al mondo, il mondo entra a grandi passi dentro Cuba, prima la svolta del 17 dicembre 2014. Cuba e gli Stati Uniti, dopo 53 anni di guerra fredda latinoamericana, dichiarano pubblicamente di voler ristabilire le relazioni diplomatiche. Un giorno storico, l'incipit di un nuovo capitolo. E non importa che dopo due anni Obama stia per lasciare la presidenza degli Stati Uniti e Raul Castro sia rimasto orfano del fratello leader Maximo Fidel, spentosi lo scorso 25 novembre all'età di 90 anni. Il mondo continua a conquistare terreno a Cuba, con iniziative di business, progetti anche culturali e accordi. L'ultimo in ordine temporale ha visto come protagonista il colosso del mondo digitale Made in USA, Google, e l'Agenzia Cubana delle Telecomunicazioni, Texas. L'accordo permetterà ai cubani di avere maggiore velocità di connessione e accesso ai contenuti Google, in un paese, va ricordato, dove internet va a singhiozzo e in molte zone completamente assente. In cambio Google potrà installare liberamente i suoi server sull'isola. Sembrano dunque lontani i tempi in cui lo statunitense Alan Gross fu accusato di spionaggio per aver fornito alla comunità ebraica cubana apparecchiature satellitari e computer. Polemiche ha invece suscitato l'accordo firmato a dicembre per il dialogo politico e la cooperazione tra Cuba e l'Unione Europea, dall'alto rappresentante per la politica estera a Bruxelles Federica Mogherini e il ministro per gli affari esteri di Cuba Bruno Rodríguez Parriglia. Dopo l'accordo di cooperazione siglato lo scorso marzo, l'Unione Europea ha fatto un passo in più, dichiarandosi adesso amica e partner dell'isola. Un evento storico che per la prima volta normalizza le relazioni tra Cuba e Unione Europea, abolendo ogni tipo di restrizione. Per la Mogherini l'apertura economica dovrebbe favorire anche lo sviluppo politico e sociale. Ma non la pensa così un gruppo di dissidenti che proprio alla Mogherini ha scritto denunciando il fatto che l'accordo in nome dell'economia toglierebbe qualsiasi pressione sul regime in materia di diritti umani, legittimando de facto una dittatura dove persino l'economia è controllata militarmente. E al di là delle polemiche restano loro, i cubani rimasti sull'isola, che da due anni sognano un futuro se non migliore, sicuramente diverso da quello che hanno avuto per oltre 50 anni di dittatura comunista. Llego a cuesto, voy para Mayari.